Allora, sono il presidente Dago Gang, sono qui con Disney Nevermind, Noia e Max Macette, chiaramente, porca puttana. Posso solo dire una cosa, ragazzi, il 9 periodico, sempre nel mio cuore, che mi hanno supportato in questi anni, porca troia, ce facciamo brutto ragazzi, anche perché io sono il decimo, il decimo del 9 periodico. Grazie a tutti.